Un bando di gara e un bando di concorso sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa dall'assessore Andrea Cora. Chi sono rivolti? È un bando di concorso per l'assunzione di 10 educatrici e educatori all'interno del servizio educativo del Comune di Teramo. Un bando che era atteso da più di 40 anni, se si pensa che le ultime assunzioni in quell'ambito furono fatte più di 40 anni fa negli anni 80. Era un impegno che avevamo assunto con i nostri cittadini per continuare ad investire su quello che a nostro avviso è e deve rimanere un servizio di eccellenza ed un servizio cardine da rendere alla collettività. Quindi la pianta organica dell'ente anche nell'ambito educativo sarà rafforzata. Si tratta del sesto bando di concorso che approviamo nelle ultime settimane a dimostrazione di come il settore personale sta lavorando lacrimente per rinforzare una macchina amministrativa che stava arrivando al collasso dopo anni di mancati investimenti. Dal bando alle assunzioni quanto tempo passerebbe? Quelli sono tempi tecnici, intorno ai sei mesi sono i tempi previsti dalla pubblicazione in gazzetta per terminare tutto quello che è l'iter. Però evidentemente su quello poi la macchina politica non può più entrare, non deve assolutamente entrare, quindi sono tempi tecnici per la realizzazione. Il secondo bando è un bando di gara perché come avevamo annunciato il personale dell'ente non era più sufficiente per garantire il servizio ad una platea molto ampia che può arrivare fino a 300 persone all'interno dei servizi educativi e quindi abbiamo pensato ad un modello integrato nel quale rimane fermo il controllo totale da parte del pubblico su tutto quanto il servizio che viene reso. Quindi un bando di gara con il quale abbiamo da un lato tutelato i lavoratori prevedendo una serie di clausole, penso alla clausola sociale, al rispetto al contratto collettivo nazionale, all'obbligo di formazione continua e costante da parte del personale. Dall'altro abbiamo tutelato l'utenza, abbiamo tutelato i bambini e le bambine che si recheranno in questi nidi e quindi abbiamo previsto che il comune da un lato formerà il coordinamento pedagogico inserendo una figura per ogni nido che dovrà avere il compito di verificare che sia rispettato il percorso educativo e pedagogico che è stato approvato in giunta grazie al supporto e al lavoro fatto da associazioni di categoria come Teramo Children e il gruppo nazionale Nidi e Infanzia oltre alle organizzazioni sindacali. Quel percorso che avevamo già presentato nelle settimane scorse alla stampa e alla cittadinanza e in più il compito che avrà l'amministrazione comunale è quello di continuare a determinare le tariffe, gli orari, le modalità di erogazione del servizio oltre a quelli che sono i servizi accessori di completamento, ossia il servizio mensa e il servizio trasporti. Quindi il comune continua ad avere assolutamente il controllo della situazione del servizio ma fa molto di più, continua ad investire sul settore istruzione come mai era stato fatto negli ultimi anni, è un qualcosa di cui siamo orgogliosi e che vogliamo rivendicare andiamo a rafforzare il personale perché era giusto e doveroso farlo e quindi siamo arrivati ad approvare contestualmente questi due bandi.